Presentata ad Avellino la quarta edizione della Scuola Politica della Lega. L'obiettivo della cosiddetta Accademia Federale è quello di formare amministratori, militanti, nuova classe dirigente con una serie di lezioni durante le quali verranno affrontati i temi più importanti dell'agenda politica nazionale e internazionale. Alla presentazione, oltre al senatore e segretario provinciale Ugo Grassi, anche il segretario regionale d'Eurodeputato Valentino Grant, Gianluca Cantalamessa, la direttrice del corso Fabiana Gardini e in collegamento il senatore Manuel Vescovi. Io sono orgoglioso che la Lega abbia deciso di inaugurare la Scuola Politica partendo ad Avellino. È un forte segnale dell'attenzione della Lega per le aree interne e per le nostre zone. La formazione è evidentemente importante. Dietro a questa inaugurazione c'è un duplice messaggio. Innanzitutto il messaggio che la Lega ha a cuore la formazione dei propri militanti e dei futuri amministratori leghisti. Ma soprattutto c'è anche il messaggio secondo cui la politica non si improvvisa. È vero, tutti possono fare politica, ma si può e si deve fare politica soltanto dopo un'adeguata formazione. Dunque la Lega riparte dalla formazione senza però dimenticare i prossimi appuntamenti elettorali a partire dalle provinciali. Il centro-destra si presenterà sicuramente unito. La Lega è il fulcro del centro-destra, dell'alleanza di centro-destra. Dobbiamo ancora studiare le migliori strategie, ma siamo già assolutamente d'accordo che solo uniti si vince.